Oggi parliamo di un prodotto energetico particolare, ovvero di CarvoSprint BCA, l'unione di malto d'estrine agli ammioacidi ramificati. Perché usare un prodotto di questo tipo? Perché uno sportivo che fa endurance, cioè uno sportivo aerobico, prima di partire, prima di iniziare la sua attività, deve avere la benzina nel proprio copro, nella prima macchina. Questa benzina è data dalle malto d'estrine, ovvero dai zuccheri, diventeranno poi zuccheri. L'altra parte, questi BCAA, ovvero gli ammioacidi ramificati, a cosa servono? Servono ad evitare il catabolismo muscolare, ovvero a evitare che il muscolo venga cannibalizzato, cioè preso a scopo energetico. CarvoSprint BCA è dosato in un DOIPAC, cioè una piccola boraccetta, che copre un'ora di attività. Una persona, uno sportivo che fa maratona, gran fondo, quindi magari performance lunghe, 3, 4, 5 ore, ne può usare uno prima e uno dopo ogni ora. Usando CarvoSprint BCA sicuramente avete una resistenza aumentata e un'energia costante fino alla fine dell'attività. Grazie.